ciao ragazzi ciao a tutti e io sono oggi di nuovo Eberman niente qua oggi basta è ora è ora di fare un gameplay per dire un gameplay un nuovo videogioco perché basta parlare basta fare opinioni basta sai per dire cazzo ho detto che un canale di game sì ho detto che ci saranno anche altre cose però vedo che ultimi giorni sto facendo più altre robe mie opinioni consigli e robe del genere questo videogioco madonna è un free to play su steam di nuovo liete ma cazzo è il il terzo sì il terzo videogioco che faccio come free to play su steam e sì purtroppo ho scelto questo gioco si chiama loadout sei un personaggio va ti crei una classe un eroe per dire quindi nel menu e quindi dopo vai a vai a combattere nel server tipo si gioca team deathmatch oppure mi sa che c'è anche deathmatch capture the flag sapete va diciamo a team forces però è una marcia in più diciamo quindi diciamo mi più attira come come gioco perché ovviamente team forces ha giocato già parecchie ore così che lo da guardate grazie a me è un gioco normale vabbè a parte che c'è il show però lasciano stare quello quindi andiamo a provarlo ok ragazzi siamo in camera mia come vedete quelle persone quei fans che ancora mi seguire non si ricordano che avevo prima il pc da questa parte per dire vabbè anche se detto non è ordinato vabbè chi se ne frega per dire e niente come ho cambiato un po qui c'è una una radio che non è nuova quindi la ho ciapata gratis da chi non c'entra perché comunque non farò nomi e niente come vedete qui c'è la laser abissus madonna fiera proprio poi qui abbiamo il ventilatore perché madonna fa caldo e ci vuole ecco qui c'è il mio studio dove nel lavoro dove dove gioco vedete nel pop con fiera proprio lì per la partita di domenica la finale madonna niente vedete un casino c'è tutto a per dire passiamo quindi al gioco vero e proprio ok ragazzi siamo sul menù di questo l'auda non si troppiamo con i due puntati dove si possono classare armi quindi questo è not bet perché comunque ognuno può creare la sua arma per dire che queste sono le mie due anni che poi fa una cosa mi fa fastidio perché cazzo deve mettere un nome la tua arma no spiegamelo no vaffanculo cosa me ne frega come si chiama mia ma o e non ho madonna non berlusconi oppure non so chi c'è chi se ne frega per dire c'è capite no e niente guarda io ho fatto un'ala così adesso mettiamo lingua italiana meglio dai perché sennò qui perché sennò oddio ecco questo è una cosa più pallosa ogni cosa che cambi devi risetare il gioco devi uscire proprio uscire vaffanculo vabbè non esco adesso dai allora come vedete abbiamo private match quindi crea tool server quindi la stanza e poi abbiamo ora anche il beta che ancora aha la puoi giocare quando sei livello 10 e poi casual non so cosa deve magari si gioca con se bot vabbè chi se ne frega mettiamo find a match oddio non si può allora mettiamo casual adesso capito come vedete abbiamo vostri humans quindi contro persone reali contro i bot che sono in gioco quindi di loadout trovato oddio buonino proprio madonna ragazzi allora prepariamoci la battaglia di questo gioco fierissimo madonna niente come vedete ci sono due squadre non so come si chiama una verde contro una è rossa ma vedete quella rossa in vantaggio i punti sono 300 400 adesso i punti mi sa che si raccolgono con i kills adesso non è che so così che niente aspetta qui chi sta saltando madonna ragazzi niente qui puoi correre così posso fare il tuffo saltino poi sto madonna il balletto aspetta aspetta qui madonna con laser vado propria a ponzecchiare proprio guarda madonna a culo vai aspetta se niente se niente guarda a culo o idiota proprio idiota che non sei la vita è la testa pace la vita in alto a sinistra aspetta adesso forse qui non è ideale essere madonna ho letto che non è ideale qui madonna si sta con vecchiando merda no 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 chi è sto qua oddio dio scappa merda merda vaffanculo si è inciampato pari il culo pari il culo sto crepando dove la vita poi almeno c'è la vita in questo gioco almeno questo se no comunque anche questo gioco non potete contattare per buttare qualche due partite perchè è un grande gioco proprio madonna perchè anche deve essere qui un po' bravo sto gioco sai non è che madonna sai c'è non è che non hai mai giocato un gioco di cieco giochiamo un po' che amanzitutto teno a cui anche sai deve essere bravo molto a mirare aspetta ma questo è il mio adesso vaffanculo vaffanculo oh ah proprio ricaricare le armi madonna finora zero morti madonna ragazzi la vita merda adesso si è nella merda 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 vaffanculo eh si prima o poi devo morire c'è qua madonna c'è un bel tempo si è proprio sai cosa cazzo è che no 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 merda merda bestia cosa con un corpo li fai non chieda perchè oppure aveva poca vita oddio quanto danno no 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 dai no merda cambia arma cambia arma merda vaffanculo no 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 non crepare dai si si madonna presa proprio il seco vaffanculo perchè è un aspetta me lo stanno un gioco la donna no merda bestia schifosa coppia da vaffanculo pezzi di me è schifoso adesso che si sale chi si può danna prova le varie desti coglioni qui perchè sennò ecco non è morto ecco adesso madonna adesso è impossibile che mi sale ecco ecco adesso muoio dai 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 si grande madonna ragazzi proprio la vita l'ultimo ecco se ma madonna dai 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 ecco abbiamo perso, vaffanculo proprio squadra di merda proprio niente abbiamo perso eh si eravamo 6 kills 5 dead il migliore nella squadra però come secondo classificato come score perchè i score si conta non è che chi fa più kill sai c'è daily price uddio play aspetta uddio uddio ragazzi ragazzi in questo pacco play a match everyday to get more price vaffanculo non ci gioco ogni giorno ogni giorno ci gioco la DSP serena è capitano ancora questo e dopo allora quale prendiamo madonna prendiamo sto qua e adesso ok 300 mi sa soldi di gioco se non mi sbaglio c'è livello 2 proprio c'è proprio 3 e adesso vedete come uddio qua guardate guardate come si inizia adesso vi viene a saltare e andarsene via non ho fanculo ma guarda schifoso proprio neanche non ho guardato vaffanculo uddio aspetta grazie grazie ma aspetta ah adesso come vedete adesso si gioca capture the slack niente l'obiettivo è di prendere la bandiera avversaria e portarla alla base quindi però se mi sa che se loro la prendono dio no come parlavo mi sa che se non la prendiamo la loro però non l'abbiamo ancora portata nella base e se loro hanno la nostra mi sa che non si può portare nella nostra base prima bisogna prendere di nuovo la nostra e dopo se la può vaffanculo te non la prendi te non prendi sta bandiera è capito o no aspetta uddio ecco mi sa che adesso è tornata e niente va metti la bandiera per terra guarda aspetta ecco tornata guarda guarda lezza lezza madonna quale sono attiene schifosa proprio no 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 bestia no vaffanculo merda mi sa che quando prende la bandiera riceve un eh si come che la prendo se aspetta ma dove sta bandiera ma dov'è se si vaffanculo oddio quattro acquattro contro ecco e ma perchè sempre trovo questo fottuto buco c'è non c'è nessuno va proprio nessuno Dove sono gli altri? Devo fare tutto da solo? Proprio devo, eh Guarda, che poi anche alla fine Vita, vita, vita Eh, sì Che poi potrò anche ammazzarlo, va Eh, sì, tre contro uno Ma non c'è nessuno, va Qua l'ha riparato al culo, va Io appena, c'è Cosa vuoi che faccio, cosa vuoi che faccio Ma qual è se si bella bandiera Come un martello che si può anche usare, c'è Pensa te, oh Qua, oh, tre Tre sono Ah, madonna, ragazzi Tre, nessuno non tiene più C'è, veramente, va Oh, meno male Oh, del deck c'è così Col cazzo ce la faremo Normalmente C'è Andiamo in attacco, vai Guardi, guardi Terzo, arriviamo al terzo Fanculo Dai, dai, prendiamola Vai Madonna, ragazzi Ecco, adesso Dai, dai, adesso Oh, affanculo Fanculo Oh Prendi la vita Corri, si gioca, madonna, ragazzi Si, se non c'è Ravenman qui Se non c'è Ravenman qui Non ci sono io proprio qui Si, così si gioca, madonna, ragazzi E se la porta nella fortuna base Tiene qui ecco così si giocano madonna si si sta ria schianta proprio aspetta qui ecco la presa, no 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 merda bestia proprio ecco vaffanculo niente ragazzi siamo arrivati in conclusione di questo lavoro che comunque non è un gioco male è perfetto play come sempre sto dicendo sempre la stessa cosa però ragazzi è così però mi è un gioco che mi diciamo più attira così per buttare due o tre partite vabbè a parte che anche a warfare però lì forse è un po' di meno qui magari mi è un po' più divertente però non è un male gioco si può sfidare ci sono team deathmatch caps deathmatch come avete visto e ancora magari qualche aggiornamento ci sarà e niente quindi io ho detto tutto se non siete iscritti al canale potete subito iscrivervi abbiamo anche la pagina facebook dove ci sono vari aggiornamenti dei video se arriva qualche nuovo video lo pubblico e dopo vedrete subito il video detto questo da Eberman è tutto e noi ci becchiamo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.